Qualche battuta cade il ministro del 21, ma sulla partita di oggi del playoff fra Olderan e Città di 21. Mi sembra che primo tempo alla parte, con un tempo superiore in tutto e per tutto a Città di 21. 4-1 è un risultato sicuramente pesante, però ci può anche stare. Primo tempo partita tatticamente bloccata, si vedeva che le squadre avevano timore di subire il gol. Sin dall'inizio si era visto che chi avrebbe sbloccato la partita l'avrebbe poi vinta. Così in effetti è stato. Nel momento che il Vincune è riuscito a sbloccare su una ripartenza il 1-0, il secondo tempo, poi in effetti non c'è stata custodia. Sul campo largo con gli spazi, con Zottola, Brudella e Camerota sono andate a nozze contro una difesa che forse era leggermente più statica rispetto al primo tempo. Forse era molto stanco. Infatti si è visto benissimo che ha retto l'ulto il primo tempo, il secondo tempo all'attre che si è bloccato il risultato ogni intorno. Sono crollati, non so per quale motivo? Sì, non tanto crollati fisicamente. Probabilmente sono crollati psicologicamente dopo il primo gol. Ho visto che non c'è stata una grossissima reazione da parte dei giocatori del fondo. Forse il gol subito ha minato un po' di certezze che avevano acquisito nel primo tempo. con una partita abbastanza bloccata, giocata bene solo nelle fasi difensive. In effetti non si sono viste grosse e grosse occasioni da gol nel primo tempo. Il secondo dopo aver sbloccato, effettivamente non c'è stata partita. Troppo più veloci, troppo più tecnici, organizzati, città di vittura. E' più esperto. Sì, anche più esperto. Stiamo parlando di ragazzi che già hanno vinto un campionato due anni fa con lo Scauri. Stiamo parlando di ragazzi che comunque hanno militato anche nelle categorie superiori. E poi fisicamente devo dire che stanno bene. Considerando la lunghezza e la larghezza del campo, forse stava meglio il cittadino in turno marina fisicamente. Sì, infatti. Ovviamente il campionato è stato forse diverso, forse come tensione. Erano più abituati, cittadino in turno, ad essere lì su e poi hanno retto fino alla fine. Sì, il campionato è stato abbastanza tirato. Perché quest'anno ci sono state 30 partite. Partite di buon livello. Non c'è stata la squadra che ha ammazzato il campionato. Ci sono state 4-5 buone formazioni per cui ogni partita è stata tirata. Quindi siamo arrivati anche alla fine dell'anno. La condizione adesso, come è normale che sia, non può essere ottimale per tutte le squadre. Adesso abbiamo saputo della vittoria dell'Apriglia. Quindi prossimo playoff in fila finale. cittadino in turno aprile. Quindi sicuramente dobbiamo solo sapere se si giocherà a Latina o a Terracina. Se si gioca a Terracina sarebbe uno spazio. Se si gioca a Terracina penso, in ogni caso comunque, io ho visto giocare, conosco un po' l'Apriglia, l'ho visto giocare. Credo che la favorita d'obbligo sia la città di Milturno Marina. Non credo che sia superiore. Però poi, una finale, una partita secca può succedere tutto, un episodio, un rigore, un'espulsione, un cumulo di falli. Però penso che a questo punto sia molto, molto favorita la città di Milturno Marina. Come se fosse arrivato l'Old Ranch, secondo me era favorito l'Old Ranch, anche rispetto all'Apriglia. Ultima domanda. Rimani a Milturno oppure vai via? È una domanda difficilissima. Non ho parlato ancora con la società. Sensazione mia? Di no. Però è una mia sensazione. Aspetto di avere un confronto con la società. Vediamo se vogliono continuare questa esperienza con me o se decidono comunque di cambiare tecnico. E nella loro facoltà comunque ci sta. Vorrà dire che troveremo un'altra sistemazione. Ma il Milturno la CTO la farà, no? Credo di sì. Ti ripeto, non ho sentito il Presidente. Però penso che dopo aver speso tante energie, penso che continueranno con il campionato di Serie C. Però ripeto, non ho sentito la società, quindi non mi posso esprimere. Appuntamento alla finale, apriti a Città di Pinturno. Sì, sicuramente, sicuramente ci sarò. Grazie. Grazie.